Un dicesimo livello di giornata quasi al termine e dopo di questo ci attenderà l'ultimo livello, il dodicesimo, che decreterà appunto la fine di questo Day 1A. Grande risultato per il primo giorno di torneo di questo Malta Poker Live Adventure che in collaborazione con Coldwin fa registrare un tutto esaurito con 202 giocatori iscritti. Attendiamo di sapere quanti invece sceglieranno di giocare al Day 1B. Nel frattempo gustiamoci in diretta sul forum appunto il finale di giornata e come sempre l'articolo riassuntivo appena dopo la fine del torneo. Quegli aggiornamenti video ci rimandiamo a domani quando in occasione del Day 1B come sempre Poker Live Adventure sarà presente in sala per riportare live la cronica della giornata. Ciao a tutti ragazzi e a presto! Grazie a tutti!